Adesso è il momento dedicato alla danza moderna e per la danza moderna si esibiranno le ragazze e le allievi un po' più grandi. Il primo balletto si titola Crystal Eyes e quindi a voi gli allievi più grandi della KPS Sporting Club. Azzurro, accogliamo sempre con un applauso a la mamma e lo patrino. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.